Buonasera, dal Tg3 vediamo le notizie più importanti, quelle di cui parleremo tra poco. Si complicano le indagini per l'omicidio di Marta Russo, la ragazza uccisa mentre camminava nel viale dell'università di Roma. Nelle ultime ore c'è stata una battuta d'arresto per gli inquirenti, uno dei testimoni è ritrattato, i principali indiziati negano tutto e ci sono stati due nuovi arresti. Poi c'è stato un grave incidente stradale vicino a Brindisi, un pullman è finito in un canale, 4 morti e 11 feriti di cui alcuni molto gravi. Poi andremo ad Amsterdam dove c'è il vertice dell'Unione Europea, l'accordo sembra ormai a portata di mano e anche i mercati oggi sono ottimisti. Infine torneremo a occuparci della vita dentro le prigioni italiane, ieri ci siamo collegati con il carcere di Pisa, abbiamo parlato in diretta con Adriano Soffri che ha denunciato una grave situazione. Stasera avremo qui in diretta negli studi del Tg3 il ministro di Grazie, Giustizia e Fliche e sentiremo che cosa dice lui. A tra poco con il Tg3. A volte la natura riserva delle sorprese, per evitarle Michelin ha creato un nuovo pneumatico asimmetrico, ancora più aderente sui suoli scivolosi. Nuovo Michelin Energy, la strada è buona anche quando è cattiva. Ehi, ma perché mangi così lento? Signore, chiste è una mozzarella speciale, è ballelata galbani, chiste, nel latte fresco, i fermenti lattici. Chiste, è troppo buono. Un lito favorito? Grazie, ma volevo sapere perché la mangi lento. E se no che il gusto ce la fornisce subito. Valle Lata Galbani, oggi anche nel gran formato tradizionale. Nessuno tratta la tua pelle come Lancaster. Nessuno ti abbronza come Lancaster. Goditi tranquillamente il sole con Lancaster. È una pittura così buona che copre tutte le magagne. Che marca? Max Meyer. Non puoi sbagliare. Dove la natura è più natura, Cirio sceglie i campi migliori. Per questo la passata rustica ha qualcosa in più. Cirio! Così avrete il sapore di una passata genuina e polposa come fatta in casa. E da oggi Cirio ha trovato la pasta dei suoi sughi. La pasta rustica, così ruvida che attira su di sé tutta la bontà Cirio. Pasta e sugo saranno una cosa sola. Un primo diverso che dà più gusto alla vostra vita. Da Cirio, la pasta rustica e passata rustica. Il telefonino. Questo è il momento. Continua il nuovo abbonamento EuroBasic Zero. Senza canone e senza fascia orale. Discover the secret of Atlantis, new from Axe. Linea Osella è fresca fatta formaggio, tenera e delicata, con un gusto così invitante che ti sorprende. Io ho una famiglia e cerco di risparmiare su molte cose. Quando compro un dentifricio però penso alla salute dei denti e lo sceguo per quello che fa. Contro la carie nessun dentifricio fa più di azetta protezione carie. Perché il suo imbattibile sistema al fluoro entra in azione subito contro la carie fin dal primo minuto in cui ti lavi i denti. Quando c'è di mezzo la salute dei denti, penso a quanto un dentifricio fa, non a quanto fa risparmiare. Azetta, massimo valore contro la carie. E che fresco gusto di menta che ha. Grazie a tutti. Io non so, io non c'ero, io ritravo.